Belì ragazzi, qui di DvT con Alice Madness del Torso e dobbiamo entrare nel pesce gigante Nella scorsa parte abbiamo parlato un sacco di Frambau Quindi scusate, non devo fare questa parte, però sono cose che volevo dire nelle vlog Ma al momento in cui sto facendo i video, è mercoledì Cosa? Oh mio Dio, cosa vuol dire? Lo dico dopo, lo dico dopo Ecco Da proprio Così Così No 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 Ma perché se ne va via scorreggiando? Quindi Culo Allora ragazzi Gatto Dov'è? Dov'è? Scrivere un'altra Grazie Il tuo contributo è sempre essenziale Come ci arrivo là però Adesso Ok Quindi vi stavo dicendo che appunto oggi è mercoledì Mentre sto facendo questo video e anche quello che avete visto nella scorsa parte E quindi cosa accade? Accade che sono cose queste di cui io vorrei parlare nel vlog Ma il vlog è tanto lontano Quindi mi è venuto di parlarne adesso Perché io vorrei parlarne C'era Alice e ne ho parlato che c'era Alice Sorry Ok il pulpo è di qua E ho capito ma Non è molto agevole Che mi stai dove fare Aha Gli devo rompere le bottiglie Aspetta facciamo prima così Olè Olè Cos'è Raffaele? C'è un occhio gigante Olè Aha Stronzetto Dov'è andato adesso? Di là È andato di là Andiamo di là Dov'è il mondo è un po' nostro Andiamo di là Non ci provo mi prostro Boh allora Però dove? Scusa Come cazzo c'è l'ipolaio? Devo fare il giro da qua immagino Aha Sapevo io che mi fregavi Guardate quanto è stronzo però Là c'è una vasca Bene Perché sì E ora? Ok Non è una grande cosa però questa Ok Aha C'è un'altra lì Io le ho spaccate tutte così per il principio Ora Come mica ci vado là? Non sto capendo Non sto capendo Ah ma vaffanculo Vaffanculo Seriamente però Dai Cioè non ce l'ho per niente pensato Sì sono io scemo Lo so Però per dire Per dire Guardate che i miei capiti rimangono in su Dopo che faccio un salto Che atterro No ok Prima erano rimasti in su Per un bel po' Allora Gatto Sì lo so il gatto farla fare ma Oddio Ok Fast please Fast please Sembra una voce Sembra una segreteria telefonica Lasciare un messaggio Fast please Ah ok abbiamo aperto passaggio per di là Ok Bene Vai L'ho Lasciata un po' più piccola Cioè per un po' più di tempo Perché se no Non Riuscivo a capire dove Dovessi saltare E qui ragazzi Io mentre gioco qua appunto Fate seguire la trama di qua Vabbè in questo caso Non è che ci sia così tanta trama In questo istante Però Sto continuando a pensare Quindi a quale potrebbe essere Il giusto erede di Fran Bauer Ed è sempre più difficile ragazzi Sempre di più Quante bottiglie però Guarda Guarda C'è una da dietro C'è una da Trovato? No Era solo lag Yeee Però ci sono dei denti d'oro Quanti sono? Dieci no? Così Sì ok Quello d'oro vale cinque C'è uno che vale dieci Mi sembra no? Ma non mi ricordo qual è Vai Vai Dai spara Spara Questa Dove cazzo è il polpo di merda? Ti mangio con le patate Oh ma lo mangio Uh Qua c'è Eh vabbè dai ci va No è una bottiglia Scusate ma non ce voglio Finché sono collectibles Sei trama Sì ma Dov'è? Ok stavolta mi sta fregando Forse è in alto Forse è in alto C'è una qualche bottiglia Messa In un luogo rialzato Quindi uno non ci fa caso Oppure qua dietro Lo stronzo Eccolo lì Guardalo bastardo Guardalo lì Guardalo 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 Che stronzo T'ammazzo T'ammazzo Ma non mi troverai ancora Tua madre non ti ha trovato ancora Nella sua vagina gigante Perché ci ha troppo sfondata È una donna profonda Ma solo se ha le gambe divaricate Ok scusate Dunque E ora che devo fare qua? Se non si abbassa quello rosso Sono un po' Una merda Ah C'era l'inghippo Madonna Muoio Scusate Devo essere una persona matura di vent'anni Allora Timer Va bene Classico Ok Questo lo abbiamo capito Che si fa così Ok Pensavo ci fosse il trabocchetto E a un certo punto Il ponte finisse A essere sincero Vai così Ok questa parte quindi La stiamo passando A cercare un potuto polpo Timido No Che si chiede simpatica E rompe il cazzo così È una persona molto triste È una persona senza un futuro È un posto di lavoro Pazienza Cazzi suoi Cazzi del polpo Famoso detto di Genova No Cazzi del polpo Sempre Ogni persona Su Genova lo dice I prof Cioè nel senso Ah Non hai studiato Cazzi del polpo Non ho capito Perché stavo pensando A cazzi nel polpo No Non nel polpo Oh mio dio Cosa ho appena detto Che schifo Cazzi nel polpo È davvero orribile Mi sento una persona sporca dentro Allora No Ferma Cosa fai Bada Cosa ti blocchi Magica creatura Che non sei altro Ok Dov'è No È giratissimo Quello affare Dai Merda Giratina Un pokemon Mi sembra No ragazzi Ho fatto una citazione In pokemon Senza farlo apposta Veloce Veloce Il timer Veloce Il timer Un secondo Prima che esplodesse È esploso tipo Un secondo dopo Eh lo sapevo Che era là Lo sapevo Lo sapevo Con quanto è Trollino A questo gioco Quanto Vai Cosa Perché Perché quel bastardo Mi ha fatto esplodere Le cose Vieni qui Vieni Vieni qui Lancia Vieni qui Occhio lì C'è madonna La telecamera Mangiata dal mondo No Me l'hai fatto esplodere Perché sei stronzo Perché Perché sei stronzo Vieni qui Vieni qui Smettere di tirare cose Vieni qui Oh Madonna Aia Mica in pieno Però Aia Cos'è The dark souls Che mi prendono Tira Su Ok Vieni qui Adesso Spara a me Non al coniglio Spara a me Spara a me Veloce Veloce Che quello lì Fa lo stronzo Veloce Sì Ok Mica faceva Faceva troppo Lo stronzo Quello lì Ok adesso Dobbiamo quindi saltare Lì Ce la fa vero Sì Saltare su Quest'altra Qual è quell'altra Che abbiamo fatto Ah Minchia Un altro Ce n'è Madonna Sì ma non vedo Ma come faccio A farlo in tempo Ma è difficilissima Sta cosa Ce la faccio Ah sì Ok Invece no Forse Veloce 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 Il timer Minchia Che culo Di nuovo Che culo Dov'è Dov'è sto posto Eh ho capito Cosa mi sta facendo vedere Ah ok Finchè mi fa vedere i posti Tutti slegati tra loro Senza un nesso magico E logico La cosa non mi aiuta Affatto E allora Sbamme baby Ok dove cazzo è ora Il bastardone Sto lag ogni volta Che spacco le bottiglie Guarda quella lì Che imperterrito A tirare cose Che vita triste Passa il tempo così Non so che cazzo fare Sta lì Tutto fiero Tatatà Ok Là c'è la bottiglia Qua Ah Goku Si è teletrasportato Eh beh Si vabbè Ma non me ne puoi dire Quale cosa Fare quello che dobbiamo fare qua Ah ok Già qui Eh eccomi Si Contenuta dissolutezza Ok Quindi abbiamo messo a posto Il copione Si ok Va bene grazie Immagino che Le cernie Abbiano una voce bellissima Attenzione E' uscita una nuova serie tv Forse oggi Si è arrivata la nuova Eh Il nuovo episodio di Aliens E' uscito Cazzo si Perché vedete Ho un'app ragazzi Troppo figa Che vi dice Quando escono Le puntate Delle serie tv E' fighissima Cosa Ma è bellissimo Sta cantando Ma non è vero E' bellissimo È bellissimo O me stesso Anche io abbastanza Faccio così Tipo No Non faccio questa cosa Perché Invento una scusa E' bellissimo E' bello E' bellissimo Che ho fatto il grugno Che schifo Che schifo è Che schifo è quello a fare Uno schifido Oh no Please Tanto C'ho La lama potente Strunze E' fighissima Sì Ok Tranquillo Tranquillo Basta cantare Ti prego Sembro io Basta cantare Taci Dai Dammi la roba Madonna Pupure i granchi Spara Via Attacchiamo lui prima Aia Ok loro ora Adesso loro Veloce Veloce No Loro Brava Tanto con la lama nuova Ci mettiamo un secondo E infatti Sono già morti tutti Ce n'è uno a destra Alice Ce n'è uno attaccato al culo Che ti palpa pure Ok quello Spara Uh Sì ma io continuo sbagliare tasto Arganciolo Sì Ci ho fatta Ci ho fatta Ci ho fatta Sì ma quanta cazzo di gente che c'è Perché non ho Merda Aia Cosa accade C'è un coniglio lì Ma non serve a un cazzo Attaccalo Bravo Ok ammazziamo lì Prima che rompa un sacco il cazzo E ora loro Che bordello Quando c'è tanta gente C'è la telecamere di agganciamento Che impazzisce tantissimo Ok via Sono dei pesci Fato Pure sti cosi qua Comunque Così Già sei Olè Credo che ne manchi ancora una Perché Di solito le cose di questo tipo Nei videogiochi sono tre Sì sì Solo uno Solo uno ancora Ok facciamo in questo video Tanto Dovremmo farlo Sì lo so È sempre uguale Perché me lo fai vedere Vai Chi c'è ora Subito 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 Olè Subito Veloce Rapido 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 Ma così Così si fa rapido Basta picchiarmi Bisogna ucciderli uno alla volta Non ti buttare in mezzo alla mischia Aia Ok questo qua che è facile Ok è già morto Questo qua Aia Va bene Ho capito Più che schivarlo Non è che posso farci tanto No Dov'è No Che palle però Siete una palla di piede Ma basta Ma guarda Ma avete andato un po' il cazzo Muori Oh Finita finalmente Chi manca Te Eh vabbè Esci da lì Esci Stronzo Esci da lì Ho detto Perché non questo è invulnerabile a tutto E ora sbam No Sì Tamburi Ora è diventata Intonata La Cernia Che sta cantando Evviva L'intonatura della cernia L'intonatura della cernia Oddio Eh sì Sente Cos'è sta roba? Eh sì immagino Oddio Ok Ho capito Ma forse hai perso lì Riprova Allora 3 2 1 Vai Eeeh Ci abbiamo fatta Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantan Non so cosa significhi quello che hai detto pesce. Ok, bene, nella prossima parte andiamo nella nuova area, bella.